Migliorano seppur lentamente le condizioni di Giampiero Pagotto, il 35enne che rischia di perdere una mano dopo l'aggressione dell'altra notte. L'uomo è stato affrontato dalla ex della compagna, Matteo Bottecchia, 32 anni, impiegato della Scopiave, che poi, in precarie condizioni psicofisiche, ha deciso di farla finita, lanciandosi dal cavalcavie dell'autostrada A9 di Vittorio Veneto. Una vicenda che per l'ennesima volta fa emergere la fragilità delle coppie e di talune personalità. Questo si dovrebbe anche insegnare quanto i sentimenti, i sentimenti amorosi, siano una forza enorme, perfino dirompente. Può fare molto bene, può fare, come in questo caso, molto male. Sono di quelle forze che vanno però tenute, non dico imbridiate, ma sottoposte a un discorso educativo che nella società emotiva di oggi manca del tutto. Particolare l'uso non tanto di un'arma da fuoco quanto di una roncola, con il chiaro movente della decapitazione del rivale. La simbologia chiaramente è quella del sangue, il sangue che appunto lava, come nella simbologia a fine dei tempi antichi, ma il sangue appunto lava offese, offese inestinguibili, e ciò che lava in modo davvero inestinguibile è soprattutto la soppressione di sé. L'ennesimo caso che mette in luce la fragilità estrema della nostra società. Dobbiamo fare due cose, uno avere personalità meno fragili dal punto di vista affettivo, dal punto di vista emotivo, e l'altro è un'educazione all'affettività, non alla sessualità. Passi obbligati per cercare di evitare in futuro episodi simili. C'è tutto un lavoro di ricostruzione per quanto possibile da fare, il tempo lenirà, ma purtroppo credo di non poter essere facilmente smentito, altri casi così nel 2016 purtroppo ci saranno ancora.